La ripresa dell'economia porta con sé anche il nodo sicurezza con numeri già tornati ai livelli pre-pandemia. Da inizio anno sul posto di lavoro 9 persone hanno perso la vita in Trentino, oltre 4.000 in totale gli infortuni, 1 su 6 colpisce cittadini extracomunitari. Daniela Donati, Inail. I settori più colpiti in questo periodo sono l'agricoltura, l'edilizia e l'industria del legno. Sicuramente settori collegati, le fasce di età più elevate sono quelle più coinvolte. L'emergenza esiste come dimostrano i tragici eventi degli ultimi giorni. Dario Uber di Uopsal. Non è mai una fatalità, quindi qualcosa di storto è sempre andato e talvolta è proprio un aspetto di consapevolezza o di inconsapevolezza del rischio. La cultura della sicurezza deve però andare a braccetto con la prevenzione. Le nostre prescrizioni spesso sono legate a delle anomalie proprio dei macchinari, quindi abbiamo capito che anche in questo senso, in maniera trasversale, su tutti i settori possa essere opportuno trovare uno standard preventivo. Sul fronte controlli a farla da padrone sono i protocolli Covid, ma servirebbe più personale. Riusciamo a fare molte cose, ma ne potremmo fare molti di più se fossimo supportati nell'organico.